Apprezziamo la tua sincerità Il momento moda con Vanessa Pretola e Maria Laura Quattrociocchi La parte bella del nostro programma Meno male Un po' di moda Ecco dai, un po' di eleganza Di raffinarezza And let forever begin tonight Amato mio When we're together I'm in a dream world Of sweet delight Many times I whisper Amato mio It was just a phrase That I heard in play I was acting a part But now when I whisper Amato mio Can't you tell I care By the feeling there Cause it comes from my heart I want you ever I love my darling Wanting to hear Ogni settimana sempre più belle e più brave Maria Laura e Vanessa Complimenti ragazzi Massimo Punto della settimana No, io fa Mille punti della settimana Volevo fare solo una riflessione È quello che diceva prima Il nostro grande Sandro Giacope Che oltre ad essere bravo È anche puntuale Nelle risposte alle mail Che In aggiunta alle mail Che Diceva di quel signore Che c'ha il mutuo E non riesce a pagarlo E sta Un attimino in difficoltà Dovete sapere Che potete andare In banca E non solo Rinegoziare il mutuo Ma sospenderlo C'è una legge Che permette La sospensione del mutuo Per un anno Quindi Questo può essere fatto Tranquillamente Con Trami della banca Per dire Io ho questo problema economico Per un anno Voglio sospendere il mutuo Loro hanno il dovere Di Darvi ascolto Loro